domenica 29 ottobre 2023 buongiorno a tutti e benvenuti alla rassegna stampa buongiorno e benvenuti a questa domenica importante perché questa sera c'è la partita e allora vi ricordo l'appuntamento con la diretta nell'intervallo con half live nell'intervallo per commentare il primo tempo di napoli milan e poi alla fine naturalmente il post partita e le pagelle quindi questo è il quanto potrete votarne anche voi nel mio sito su rinaldomorelli.it al termine della gara domani alle 18 e 30 ritorna la compagnia della live quindi questi gli appuntamenti nell'immediato di questa domenica e dei lunedì questa domenica che vede sorgere il sole con la juventus che torna in testa alla classifica 1 a 0 molto molto sofferto sul verona in realtà anche due gol annullati e uno dei due anche un po diciamo così però un successo il gol di cambiasso nel finale porta la juve in testa in attesa delle partite di questa sera perché alle 18 c'è inter roma e alle 20 45 c'è napoli milan quindi una giornata davvero molto molto interessante ieri vittoria del real madrid o di bellingham se preferite nelle classico e un gran gol da centrocampo di harry kane nella vittoria per 8 a 0 del bayern monaco questi un po i così gli appunti sparsi del sabato andiamo a vedere insieme le prime pagine dei giornali cominciamo dalla gazzetta dello sport eccolo qui juve prima alla fine notte in testa al 97esimo e dopo tre anni un gol di cambiasso abbatte il verona annullato una rete regolare a ken va punita la simulazione di faraoni ogni caso la juve vince 1 a 0 e questa sera chiamati inter e milan a rispondere per l'inter c'è la sfida alla roma e naturalmente la retorica insomma da settimane della del ritorno di lucaco a san siro i fischietti non eccetera in realtà poi pensate che si è arrivati addirittura a permettere ai fischietti di entrare ma dare la multa a chi dovesse fischiare sarà mica una roba normale no vabbè comunque l'autaro c'è inter rom ovviamente l'autaro è un derby il nerazzurro nuovo re di milano l'ex lucaco e i fischi dice io non ho paura non ha paura speriamo nemmeno il milan l'esame napoli carascheri e leao sono i due protagonisti attesi di questa sera guai a chi si ferma le stelle del dribbling è una notte da tenere in per tenere in alto garcia e pioli ieri altri risultati il pareggio tra bologna e sassuolo con un gran gol di zirgze e la vittoria del torino sul campo del lecce con la rete di buongiorno andiamo al corriere dello sport e corriere dello sport che apre come prima gol di cambiaso verona cappò una festa attesa da 1183 giorni delirio della juve vince al 97esimo e vola in testa dopo 124 giornate lucaco fa paura bolgia a san siro interromane 18 poi garcia diversi da spalletti i ko della scorsa stagione dice il tecnico del napoli stavolta vogliamo batterli pioli a caccia del rilancio poi qualche notizia qualche notizia dal mondo intanto in sud africa si è laureato per la quarta volta campione nel mondo di rugby battendo ieri la nuova zelanda gli arabi vogliono la viola questo è il retroscena che stasera ci sarà su report su rai 3 il programma rivela che renzi avrebbe creato un contatto tra alcuni investitori di riad e la fiorentina ma giobarone si ribella dice tutto falso commisso non vende bellingham fa volare ancelotti eccolo qui il derby di madrid un gol di un gol di pregevolissima fattura il primo un grande grandissimo destro da fuori aria e un gol di rapina il secondo e l'asso inglese ribalta il barça sotto gli occhi dei rolling stones dopo la prima rete di gundogan carlo felice dice anche noi sorpresi dal rendimento super di giud già dieci gol in liga per lui tutto sport tutto sport ovviamente diviso tra la vittoria del torino anima e gol dove c'è buongiorno c'è toro e quella della juventus fino alla fine alla faccia dell'arbitro qui ce ne vuole comunque 16 anni non all'altezza questo è vero due gol annullati a ken furioso alla sostituzione uno per fuorigioco minimetrico l'altro per un fallo discutibile poi il rigore non concesso a chiesa nel recupero l'esterno fa giustizia e piega al verona milanesi scavalcati in vetta dopo oltre tre anni la juve inter roma una app per fischiare lukaku e continua il delirio fischietti vietati i tifosi nerazzurri e con l'applicazione che riproduce il suono ma fischiare così non c'è ma non si può cioè dico io hai tutto diritto di fischiare vai fischi così su wikiao c'è il vi spiego questo su wikiao c'è il tutorial che insegna come si fischia no come si mettono come si mettono la lingua le dita eccetera eccetera per fischiare un amico dell'azzurro hai tutto il giorno per allenarti e stasera vai fischietti robe così come il trap ecco bivio pioli lo sta qua bivio pioli futuro milan in gioco e qui ci sono e qui ci sono le illazioni e conferma legata allo scudetto per la storia delle 200 panchine la festa per le 200 panchine solo a maggio e poi sinner va finale a vienna per jannick a parcellona si canta e i giud la doppietta del candidato a golden boy decide il classico davanti ai rolling stones questa è la prima pagina di tutto sport la prima pagina che mi ha fatto venire mal di testa andiamo agli approfondimenti agli approfondimenti cominciamo dalle partite naturalmente dal calcio di ieri cominciamo dalla juve dopo tre anni comanda la signora cambiaso gol festa al 97esimo la juve estende il verona è un primo posto al max bianconeri a quota 23 punti aspettando l'inter e il milan dopo i due gol annullati a ken e dal var l'ultimo assalto premia l'esterno su un super colpo di testa di miliki in un'azione insomma dove quel palo poi dopo il rinvio del difesore verona e di cera cambiaso pronto a mettere in rete e qui festeggia vedete la meglio gioventù della juventus allegri ovviamente contento l'orgoglio eccolo qui l'orgoglio di massimiliano allegri una vittoria perché tutto quello che fa allegri è al max avete mai notato qualsiasi cosa una vittoria con il dna della juve ho tolto ken per il giallo sciocco il calcio è micidiale ci abbiamo creduto sempre il primo posto dice allegri fa piacere ma guardiamo chi è quinto dunque allegri continua a guardarsi dietro piuttosto che guardare avanti la super serata di cambiaso andrea notte da supereroe il primo posto ce lo meritiamo da gregario a bomber inaspettato punti pesanti ora serve equilibrio qui vedete intanto faraoni a terra e la scenata da punire per cambiare faraoni si rialza dopo il contatto con te e poi si butta a terra abbiamo visto ieri insomma le immagini di questa cosa qui ho altri risultati di ieri perché non c'è stata solo la vittoria della juventus ma c'è stato anche il successo del torino sul campo del lecce col gol di buongiorno capitano futuro rilancia i granata mentre lecce è in difficoltà la squadra di yuric gioca una partita di sostanze giallorossi hanno vinto solo una volta dal 17 di settembre quindi successo importante con yuric che può sorridere dice bel gioco solidità usciti con carattere da un mese duro mentre sul campo del sassuolo zirkzee illumina un bologna frenato e boloca lo riprende per il rosso blu non a partita di fila senza cappa o sassuolo più deciso ma sbaglia troppo il gol di zirkzee è una meraviglia una meraviglia un controllo in corsa col destro dribbling sul portiere gol andate a vederlo se non l'avete visto perché veramente è un grandissimo grande tecnica e precisione finisce 1 1 dunque tra il sassuolo e il bologna e poi siamo alle partite di questa sera cominciamo dalla sfida di san siro il incontro tra l'inter e la roma l'incontro tra l'inter e lukaku un incontro lukaku versus resto del mondo ma la questione della gazzetta è anche sull'altro attaccante quello dall'altra parte ovvero lautaro martinez il re di milano sono io lautaro ha cancellato romelu con turam e lui lì l'inter è al top l'intervista a alessandro altobelli che dice deluso da romelu il torre meglio senza di lui lo fischierò da casa magari con la app chi lo sa martinez è cresciuto in tutto senza lukaku con la presenza del francese accanto arriva più facilmente alla rete eppure il suo status in europa ora è diverso quindi assolutamente lukaku era negativo per l'inter ha rovinato l'inter romero lukaku stando alla gazzetta dello sport che tra l'altro non riesce praticamente più a scrivere lukaku perché lo scrive rom o cioè cosa ha scritto qua mi ricordo neanche un po' rom sì dappertutto non esistono più i nomi quindi c'è il max il rom vabbè formazioni formazioni di questa sera probabili insomma per l'inter turam e d'autaro davanti barella ciarono glomi chitarino al centrocampo a cervia al centro della difesa pavar il centrale di destra bastoni centrale di sinistra nella roma 3 5 2 con il sharawi al fianco di lukaku poi cristante paredes e bove con di cagli orente e mancini in difesa alle 18 a san siro una partita molto attesa molto attesa anche per il ritorno di lukaku eccolo qui lukaku non ho paura qui riescono a scriverlo per intero le accuse i gol e la leadership roma tranquilla dice io sono pronto big rom rassicura murigno e compagni dopo i veleni estivi la sfida contro l'inter lo carica il suo sogno sarebbe realizzare la rete della vittoria dei giallorossi e poi niente fischietti e coreografie ma clima bollente contro l'ex re i 30.000 pezzi vietati distribuiti comunque fuori rischio multa per chi di usa e attenzione alle app basaglia basaglia mannaggia allora tema ovviamente la tattica e quindi inzaghi contro murigno sfida totale tra 352 diversi intera memoria la roma invece distinto modulo uguale interpretazioni distanti simone usa sempre lo stesso copione giose deve adattarsi alle tante esigenze qui ci sono poi tutte le mosse tattiche per studiare se vi fa piacere insomma la partita di questa sera partita di questa di questo tardo pomeriggio invece la partita di questa sera è quella tra il napoli e il milan ed è una sfida nella sfida tra kvara scheria e leao questa è una cosa che insomma tutto l'anno scorso ci siamo portati dietro oggi si ripresenta kvara e leao accendono la notte leader il giorgiano napoli ci crede sera fa svolta il milan riparte al maradona è già una partita bivio le due stelle chiamate ad incidere quindi qui la mosse le mosse di pioli con calabria che non sbanda in velocità calulu musa pronti al centro sapete che non c'è ciao squalificato il capitano milanista già retto l'uno contro uno con kvara ecco chi lo assisterà lo assisterà la coppia formata da calulu e musa ma più probabilmente anche crunic che giocherà a titolare anche per quello poi dall'altra parte invece per fermare leao di lorenzo aspetta più basso cajuste il primo a controllarlo le mosse di garcia per fermare il portoghese le probabili formazioni delle due squadre ma ormai praticamente certe con cajuste che gioca ma con anghissà che va in panchina per il napoli con raspadore al centro dell'attacco nel milan praticamente formazione quasi identica a quella di quella di parigi perché come sapete come recita il detto squadra che perde non si cambia comunque crunic ritorna crunici resta titolare in difesa calulu con calabria che torna a fare torna a titolare calulu a fare centrale per l'assenza di malic ciao la sfida tra i due tecnici la sfida tra garcia e pioli e allora la gazzetta si domanda chi resta in alto garcia un pieno di fiducia al napoli in crescita saremo più concreti la mia squadra è diversa da quella dell'anno scorso dice vedrete di che sarà capace dall'altra parte invece il mister pioli dice vogliamo lo scudetto non cambio il milan avanti con il nostro stile nervi tesi il giusto dice pioli il milan cinque risultati utili a napoli dal tecnico rosso nero stefano pioli non ha mai perso sul campo del napoli da quando allena il milan in cinque confronti al maradona il bilancio di tre successi e due parecci dunque da questo punto di vista è incoraggiante ma ovviamente sono tornato ovviamente giustifica anche la scaramanzia da parte dei più oggi altre partite si gioca alle 15 la sfida tra italia contro mondo questa è divertente il monza più azzurro e l'udinese poligrotta l'udinese ritorna cioffi nostro prossimo avversario tra l'altro sabato prossimo i brianzoli hanno schierato finora 15 italiani friulani solo tre e c'è appunto l'esordio di cioffi e poi la sfida tra il cagliari e il frosinone dribbling e gol giovani lubumbo e sulle accendono la sfida il cagliari insegue ancora la prima vittoria il frosinone vuole invece confermare l'avvio sprint allora vediamo il programma della giornata eccolo qui con la sfida tra cagliari e frosinone alle 12 e 30 monza udinese alle 15 poi le 18 inter roma e le 20 45 napoli milan giornata che si chiuderà domani con empoli atalanta però sovrappone la compagnia della live quindi porteremo via un po di ascolti ma mi spiace per da zona perché spostino l'orario loro e poi lazio fiorentina alle 20 e 45 un salto veloce all'estero un salto veloce all'estero per parlare di sua maestà bellingham l'inglese galattico doppietta al barça e il real al 92esimo trionfa nel classico ancelotti torna in testa la liga con il girona giude sempre più decisivo solo di stefano e cristiano ronaldo avevano segnato 13 gol nelle prime 13 con i madridisti altra partita importante ma questa e questo si gioca oggi ovvero il derby di manchester manchester e derby lo united in crescita va all'assalto del city tenaga arriva da tre successi di fila guardiola è l'allenatore che ha vinto di più a old trafford alle 16 e 30 la sfida tra il manchester united e il manchester city bene questo è tutto per la rassegna stampa di oggi a me non resta che augurarvi una buona domenica e darvi appuntamento questa sera intorno alle 21 e 35 nell'intervallo della partita napoli milan e poi ci sentiremo anche ovviamente dopo la gara per il post partita e le mie pagelle buona domenica a tutti